Un sogno che diventa realtà, Andrea Bertozzi, finalmente il Museo Bianconero prenderà vita nel 2023. Oggi un piccolo assaggio qui alla Clubhouse del CSNFC. Sì, ancora non ci crediamo perché c'è stata un'accelerata negli ultimi due o tre mesi grazie alla nuova società. Quindi ci stiamo dando da fare per riuscire a far vedere le potenzialità delle nostre collezioni e anche delle nostre idee. E speriamo di riuscire a fare qualcosa di fisso, disponibile tutti i giorni, il prima possibile. Tantissime pagine della storia bianconera, qual è la sua preferita? Beh, ce ne sono tante. Io posso ricordare le mie esperienze che ho passato via Cesena e quella più significativa è la seconda salvezza in Serie A con Lippi prima di andare via da Cesena per andare al Milan. Nel suo cuore qual è il ricordo più bello che ha con la maglia del Cesena? Non ce n'è uno, è un po' impossibile. 13 campionati nel Cesena non può essersi un episodio. Ce ne sono tanti e tutti sono indimenticabili. Non ne posso dire uno, assolutamente. Potrei dire la promozione, l'80-81, potrei dire la mia prima partita nel Cesena, che è l'emozione di indossare questa maglia.